cosa significa amare una persona, che cosa significa condividere qualcosa con l'altro, quindi ecco anche per questo motivo che mi sento di consigliarlo, tutti i libri li trovate qui sotto nei nick di Amazon nella quale io stessa sono affiliata, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video, di seguirmi su Instagram, chioccio lo giardino della pedagogia e alla prossima!